15 anni fa la firma di questa importante risoluzione rilancia l'attività di peacekeeping della missione Unifil in Libano. È una missione che è volta a portare sollievo, a portare aiuto, a portare solidarietà a un popolo che è martoriato da decenni, da guerre intestine che interessano tutta quell'area. Al comando della missione c'è un generale italiano, il generale del Col, il generale di divisione del Col, il quarto italiano a guidare questo tipo di missione e penso che sia importante parlarne perché in un periodo in cui le forze multinazionali di pace stanno abbandonando l'Afghanistan, stanno abbandonando l'Afghanistan al proprio destino, gli Stati Uniti si stanno ritirando, gli italiani stanno facendo la stessa cosa così come anche i francesi, è importante parlare invece di un esempio virtuoso come quello della missione Unifil a guida italiana.